A tutti i ragazzi siamo con Claudio Cecchi, anche lui fa parte dei 24 che si contenderanno un posto al tavolo finale qui all'EPT di Vilamura. Al tavolo sarai con Biccio e Calia, sensazioni? Sensazioni, contento di essere arrivato qua, sempre da short tutti i giorni, penso di essere stato negli ultimi 10 a partire dal basso, spero di arrivare a domani. La voglia è di ripetere l'esperienza di Barcellona nel 2008? Sì, possibilmente non chiuderla nella solita maniera perché il basso 10 contro K2 non ce la farei a sostenere un'altra volta, sì un pochino meglio però questa volta. Strategie particolari che vorrei adottare? Sì, sicuramente quando giocano contro Di Meda vado a mettere 170 all'inizio e forse dopo anche 320 dopo. Ok, grazie Claudio, in bocca al lupo. Grazie. Grazie.